E se ti dicessi che puoi creare presentazioni davvero professionista senza essere un bozzettista a provetto ed avere basi di Photoshop e di Illustrator? Ammettilo anche tu, quante volte è successo, anche a me agli inizi, di sprecare tempo ed energie per spiegare un progetto più e più volte? E quante volte gli sposi non lo comprendono per la poca immaginazione? C'hai mai pensato? Beh, quando succede non si passa mai un bel quarto d'ora. Ed è proprio per questo motivo che ho deciso di portare allo scoperto il mio metodo, il metodo della Giovanna Damonte Agency. Sei pronta a far capire in un secondo, alle tue coppie di sposi, il progetto di nozze che hai creato per loro e passare da un'ambientazione minimal così ad una meraviglia creativa come questa. E creare una presentazione di progetto chiara, completa, personalizzata e di forte impatto. Io sono Giovanna Damonte, wedding planner e luxury designer e non vedo l'ora di accompagnarti alla scoperta del mio metodo infallibile per risparmiare tempo ed energie e far sognare fin da subito i tuoi sposi. E questo è il mio corso, wedding design come realizzare un progetto. Dimenticavo il corso aperto a tutti i professionisti del settore, dai wedding planner ai floral designer. Cogli l'attimo, iscriviti all'edizione annuale del corso wedding design come realizzare un progetto. Vi aspetto!